La cittadella del Carnevale di Viareggio è il luogo dove tradizione e passione sono alimentate dai maestri della cartapesta, un luogo simbolo per la città e meta di turisti non soltanto nel periodo di carnevale. Il 26 settembre 2001, 20 anni fa, si chiusero definitivamente gli hangar di via Marco Polo e la macchina del Carnevale Viareggino attraversò la città e venne trasferita nella nuova cittadella situata nella zona nord della città. Per ragioni di spazio e movimentazione delle costruzioni in cartapesta fu necessario dotare i maestri di un nuovo teatro per il loro lavoro. È stato un cambiamento epocale, soprattutto per il lavoro delle costruzioni dei carri, ha permesso uno sviluppo ulteriore alla loro crescita, per la prova dei movimenti e per tutto l'ambiente, il fatto che finalmente ci fosse un piazzale davanti agli hangar poteva permettere lo sviluppo, provarli, fare i collaudi in sicurezza. Poi gli hangar sono molto più grandi, ci sono i laboratori e poi naturalmente tutta la crescita del Carnevale legata ai musei che si sono poi sviluppati soprattutto in questi ultimi anni. Me lo ricordo benissimo quella giornata, un caldo estivo, una giornata bellissima, l'emozione era forte da parte di tutta la città, le tantissime persone che seguirono il trasferimento dei carri, ovviamente gli stessi costruttori, mi ricordo un Arnaldo Galli molto commosso nel chiudere per l'ultima volta alle sue spalle il vecchio hangar che l'aveva ospitato per una vita, per 40 anni di lavoro. Quindi insomma un'esperienza davvero unica, incredibile, storica. È una pagina della storia del Carnevale di Viareggio. La cittadella ha dimensioni imponenti ed è caratterizzata da una piazza centrale di forma ellittica, proprio come un teatro. Sulla piazza si aprono i 16 hangar dei maestri.